Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo il gelato al pistacchio. Secondo questo libro, il gelato al pistacchio come lo conosciamo oggi nacque in America. Infatti erano gli anni 40 del 900 e il pasticcere James Parkinson di Philadelphia propose la sua prima versione. Venne talmente apprezzato negli Stati Uniti che da allora ogni 26 febbraio si celebra il pistacchio dei. Secondo gli antichi erano afrodisiaco ma secondo me è il gelato più buono che c'è in estate e noi lo facciamo con una pasta 100% naturale fatta solamente con i pistacchi. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola con acqua fredda 250 g di pistacchi crudi sgusciati per una notte intera. Se non avete tempo metteteli in acqua bollente per 2 minuti. Il giorno seguente togliamo i pistacchi dall'acqua e li trasferiamo in un cannovaccio pulito. Sfreghiamo i pistacchi e le bucce spariranno in un baleno. Guardate qua! Poi li mettiamo in una teglia con carta forno e li cuociamo a forno preriscaldato statico 150 gradi per 20 minuti circa. Tiriamo fuori dal forno e lasciamo raffreddare completamente. Prendiamo un mixer potente e ci mettiamo i pistacchi all'interno. Frulliamo poi per 10-15 minuti. All'inizio sembrerà sabbia, poi diventerà una pasta e infine una crema quasi liquida e dal colore verde intenso. Versiamo 500 ml di panna fresca fredda dal frigo in un contenitore che abbiamo lasciato in frigo per un'ora. E montiamo finché diventerà bella soda. Aggiungiamo i semi di vaniglia e li amalgamiamo al composto. Versiamo la pasta di pistacchio pura in una ciotola insieme a 130 grammi di latte condensato. Diamo una breve mescolata e aggiungiamo la panna montata. Amalgamiamo gli ingredienti con il mixer e con la marisa. Trasferiamo il composto in un contenitore ermetico, lo livelliamo e lo trasferiamo in freezer per almeno 8 ore o meglio tutta la notte. Il giorno seguente possiamo finalmente gustare il gelato al pistacchio. Ammirate che meraviglia! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio e adesso gustiamo questo meraviglioso gelato al pistacchio. Mamma mia che buono! È un gelato davvero spettacolare! È proprio vellutato e corposo, inoltre ha un gusto veramente intenso di pistacchio e non è per nulla stomachevole, a differenza di moltissimi altri gelati che si trovano in gelateria. Il croccante di pistacchi salati gli dà una marcia in più e lo completa in modo perfetto. Insomma, è un gelato incredibile, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace! Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza! Ci vediamo nel prossimo video! Ciao!